Non credo che sia possibile fare un confronto, lui può ancora crescere, è nel suo migliore momento ed è senz'altro il giocatore migliore del mondo, siamo diversi. Noi non abbiamo Messi, ma siamo una squadra forte. L'Inter non ha paura di nessuno, io non temo nessuno e nemmeno i miei compagni. Abbiamo rispetto del Barcellona, che è uno dei migliori team in Europa. Tanto rispetto, ma nessuno ha paura. Devo dire che il Barcellona è una squadra fortissima, gioca un calcio spettacolare, sono davvero bravi, giocano con molti tocchi, sono belli da vedere. Non so cosa abbia detto Mourinho, ma noi abbiamo una tattica. Mourinho ha sempre una tattica e ce l'avremo anche domani, per distruggere il loro gioco. Dobbiamo distruggere il loro gioco e lo faremo. Dobbiamo attaccare perché giochiamo in casa e vogliamo segnare. Siamo in grado di segnare e lo faremo. Siamo in grado di segnare e lo faremo.